Non potevi studiare in Italia, a Roma o a Milano? No, cioè sì, ma sai io ho preferito studiare qui a Parigi. Allora ci vediamo. Domani? E domani non posso. Dopodomani allora? Non lo so perché ho da fare con i compagni all'università. Mi faccio vivo io quando sono libero. Va bene. Arrivederci. Ciao. Ah, signor Galassi, forse dovremmo smetterla di frequentarci. Vede, non vorrei comprometterla. Germaine. Germaine. Lo sai che ore sono? No. Sono le nove passate, ero molto preoccupata. Mamma, ho 24 anni e so quello che faccio. Avete litigato? Vorrei sapere che tipo è questo Galassi. E chi lo sa. Parla sempre di quando era bambino, ma del presente mai. Dice che studia, che ha degli amici italiani. Comunque con me è galante e mi rispetta. Comunque con me è galante e mi rispetta. Orvi. Allora... L'un確 wit... Di dati... Grazie.